Who's the master in game? It's video game Darling, who has the coolest name? It's video game Ciao da Svideo! Ci troviamo qui Nuovamente Su Lucid Dream e guardate In che panorama siamo Guardate che Che ambientazione siamo Allora Vediamo un po' Il da farsi qui Uh! Questa è quella cosa Mamma mia Quante bestiacce Vabbè Guardiamo un'occhiata Io ho sempre dei pastelli L'occhio qua non dice niente Entro dentro oppure Non mi sembra che Di lì non posso rientrare Va bene Allora direi di entrare dentro Anche se è un po' inquietante questa entrata Oppala Eccolo E' lui Questa bestia qua Oh mamma mia E' questa qua la larva Strale Mamma mia Adesso qua La larva La larva mi sta aspettando Sono terrorizzata Allora vediamo un po' Questa leva Fa uscire come del vapore Vediamo qua Qua ci sono determinate Le Adesso qua Beh Facete capire Forse dobbiamo far diventare verde quello Noi dobbiamo Noi dobbiamo far uscire il vapore di là Quindi sicuramente Dobbiamo far andare Queste qua A destra Lì a sinistra Però E' sistema Che non è molto chiaro Allora Così riesco a spostar E così Ecco Così riesco a spostarmi O uno Però Questa dopo non va più in là Allora Questa posso spostarla così E E Mandare in là Questa Però Allora Mandiamo in là Questa Eh però Questa qua A destra qua E E E Qui E non ci arriva Fino a là Allora Aspettate Spostiamo questa qua Perché la destra E questa Spostiamo Spostiamo Ah questa non la possiamo più spostare Non capisco Spostiamo quello là Eccolo lì Spostiamo questo Spostiamo questo Questo qui Questo lo sposto lì Questo qua E questo così Oh 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 Ci ho messo un po' di tempo Si è acceso di verde Oh Perfetto Ed è andato via Il La Larva Ora Ora No Lo devo rifare Aspetta Emozionare questo Una specie Di apertura Ecco Usciamo di qua Perfetto Il mosso Sta arrivando Attraverso il tunnel Che ho scavato Allora Il tempo sta finendo Devo trovare qualcosa E qua c'è per esempio Ah no Non si muove Cos'è che segnalava qua Una barra di metallo Ah beh Bene Allora facciamo andare questa Con la barra di metallo Ora vai Perfetto Quindi l'abbiamo chiuso fuori Oh Il demone sta colpendo La porta Non si fermerà A lungo Oh cavolo Oh Oh Io sono nascosta Non mi vede Uovo verde Sono così terrorizzata Non voglio uscire Vediamo un po' Si dice altro No non voglio uscire Eeeh Sto uovo verde Vediamo l'uovo verde No eh Coloriamo Quei colori L'uovo verde No Ah c'è qualcosa qua Ah Non avevo visto Che c'è la spessi apertura Perfetta Allora Guardiamo qua La leva Ventilatura Abbiamo messo l'uovo Abbiamo messo l'uovo Nel ventilatore E ora Coloriamo No Torniamo di là Ah guarda Guarda Si è espansa Tutta la La cosa verde E io mi muovo Spettacolo Spettacolo Sto gioco Ecco dai Posso Scendere qua Dal tombino Ok Qua c'è qualcosa No dai Bisogna andare di qua Dove c'è questa specie di botola Chiaramente Ok Ah sono uscito Che schifo L'occhio qua Che è uscito dal bulbo Ah dobbiamo prenderlo Forse Lens È una lente È una lente Di qua si si va? No Allora andiamo di qua Beh è bellissimo Allora c'è Il scenario è stupendo Beh che spettacolo Con le occhi che si girano E va Ma che bello Aiuto Cosa c'è qua? No Mi fa paura Aspetta Aspetta Che guardiamo Se si può intanto Vedere altre cose Ah Wow Molto inquietante Mi fa vedere niente Non posso salire Eh ma Eh io però Quella lente lì La posso usare Dai Magari serve da Il computer qua Per scannerizzarmi No eh Pensavo che vedendo La mia retina Perfetto E uno l'abbiamo coperto Ok Potremmo fare A questo punto La cosa alla rovescio Facendo così È già giusto? No No Ora dobbiamo girarlo E forse darci Più parabola Così No Spinto Mi sembra giusto Quasi Siamo così Sì Perfetto Ragazzi Ci è voluto un po' Anche stavolta Ma ce l'abbiamo cavato Ok Possiamo entrare qua dentro Guardiamo un po' qua C'è una piuma In un calamaglio Lì Ma Ci fa vedere Nient'altro Che spettacolo Oh oh Che è sta cosa? Ah Gira Prendiamo la lente rotta E mettiamo questa lente qua Ah ecco Così Perfetto Ora No 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 Lascialo su A meno che Dobbiamo colorare la lente No Non penso Ora Ora Dobbiamo guardare Tramite l'omino Ah Dovamo guardare Ma cos'è che devo guardare? Ah aspetta C'è una mappa qua Ecco cos'è che non ho visto Ah la mappa Guardate qua Facciamo una cosa Chiudiamo qua E ci ragioneremo Ci ragioneremo Un po' la prossima volta Ciao Ciao